I saldi in Sicilia dal primo luglio. Accordo tra governo e associazioni di categoria. L'assessore regionale Mimmo Turano. Riattivare il circolo virtuoso per aiutare l'economia. Gloria Scafè. L'emergenza coronavirus ha stravolto ogni ambito della nostra vita e anche le modalità di fare shopping. Dall'inizio della pandemia gli acquisti online sono aumentati dell'80%. Con il ritorno alla normalità dopo l'apertura dei negozi nella fase 2 è stato programmato anche l'inizio dei saldi estivi. In Sicilia partiranno già dal prossimo primo luglio a differenza del resto d'Italia che partirà dal primo di agosto. Posticipare i saldi ad agosto è una scelta per consentire ai negozianti di recuperare le vendite a prezzo pieno mancate a causa del lockdown. La regione siciliana, scegliendo la data del primo luglio, si discosta dall'indirizzo comune approvato dalla Conferenza delle Regioni. La decisione è stata presa dall'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano dopo un confronto con le associazioni di categoria. La data del primo luglio, spiega l'assessore, è il frutto di un'attenta valutazione fatta con le associazioni del mondo del commercio delle specifiche esigenze del nostro territorio. Lo scopo è di riattivare il circolo virtuoso dei consumi prima che i siciliani vadano in vacanza e di sfruttare l'arrivo dei turisti nel mese di luglio. La Sicilia non è la sola ad aver scelto questa data, anche nel Lazio saldi liberi dal primo luglio. Turano dichiara Noi manteniamo la data che avevamo indicato prima dell'emergenza Covid-19 perché riteniamo sia urgente far ripartire i consumi ma anche evitare il caos dei maxi sconti prima dei saldi estivi. Saranno saldi estivi in sicurezza, dice l'assessorato. I commercianti dovranno rispettare tutte le norme, distanziamento sociale e uso dei dispositivi di sicurezza. Abbiamo scelto di dare più tempo per i saldi estivi per diluire le presenze ed evitare i cosiddetti Black Friday e gli assembramenti che questi notoriamente determinano, conclude Turano.